Tardo pomeriggio di venerdì 3 maggio, come un fulmine a ciel sereno, la sentenza che rimette tutto in discussione. Accogliendo il ricorso del Taranto, circa l'esito della sfida del 18 aprile a Picerno, terminata 0-0 ma caratterizzata da una colluttazione che vide avere la peggio tre calciatori ionici, la Corte d'Appello, pur confermando il risultato del campo, ha inflitto al Picerno tre punti di penalizzazione, riaprendo di fatto il campionato di Serie di Girone H. La nuova classifica vede sì il Lucani in testa ma con soli tre punti di vantaggio sul Cerignola, un distacco non più sufficiente agli uomini di Giacomarro per essere sicuri della promozione in Serie C. Decisive risulteranno dunque le sfide che vedranno domenica pomeriggio il Picerno, ospitare sul neutro di Rioniero in vultore a porte chiuse il Bitonto, già sicuro della partecipazione ai play-off, e del Cerignola in trasferta sul campo del già salvo Francavilla. In caso di K.O. dei Lucani e contemporanea vittoria degli Ofantini, la vincente del Girone H del campionato di Serie D si deciderebbe in un incredibile spareggio. La decisione della Corte d'Appello, che ha riformato l'iniziale sentenza del giudice sportivo, combinando al Picerno la penalizzazione, ha naturalmente spiazzato i Lucani con la testa in vacanza già da un paio di settimane. Nella tarda serata di ieri la società del presidente Curcio ha annunciato la volontà di impugnare la decisione della Corte d'Appello, ma allo stesso tempo ha sottolineato la volontà di riaffermare sul campo contro il Bitonto la propria forza, conquistando nuovamente una promozione in Serie C già festeggiata ed ora clamorosamente rimessa in discussione. Il Cerignola dal canto suo spera nell'incredibile aggancio e si prepara alla sfida di Francavilla, una sfida che potrebbe valere qualcosa di più del secondo posto.